Mi piacciono le city car da rally sportive d'epoca? Ho quello che fa per voi, un sito solo di auto. Ma prima, sigla! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Novel Electric Studios. Allora, questo è un video che faccio perché mi è stato chiesto da un mio amico. Praticamente questo mio amico mi ha chiesto di fargli una pubblicità su una pagina Instagram che ha aperto da poco. Praticamente ha aperto questa pagina Instagram chiamata Petrusauto. Dopo nella descrizione vi lascio tutti i nomi suoi. Quindi praticamente lui su questa pagina Instagram pubblica solo foto di auto. Di ogni genere. Da quelle da rally, quelle sportive, quelle d'epoca, quelle moderne dei tempi nostri, le supercar, tutti i tipi di auto. E non so, magari forse anche qualche tipo di moto. Boh, non lo so. Comunque lui mi ha detto che cercherà di pubblicare almeno due foto al giorno. E mi ha detto che se voi lo contattate tramite Facebook o Instagram direttamente e gli mandate delle foto di auto che volete pubblicare ma che non riuscite o perché avete dei problemi con il telefono o con internet o così. Ma riuscite a contattarlo e mandagli la foto dell'auto che volete pubblicare. Lui ve la pubblica e quindi lui vi fa diciamo pubblicità anche a voi. Voi mandategli tutte le foto di auto che volete pubblicare e lui nel giro di un giorno ve le pubblica. Lui ne pubblicherà almeno, almeno, almeno due al giorno. Da due può arrivare a che ne so quante può pubblicarne, anche dieci così. Quindi vi lascio tutto in descrizione. Un saluto elettrizzante, bella, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS